Potrebbe arrivare tra poco più di un mese il primo verdetto ufficiale sulla vicenda giudiziaria dell'ex Argentina, che ha portato alla sbarra dieci persone, tra le quali l'attuale vice sindaco di Arco Stefano Bresciani e l'imprenditore Roberto Miorelli, legale rappresentante dell'impresa Cosmi SRL, che ha realizzato il grande complesso residenziale Olivenheim, parte del quale sotto sequestro giudiziario da più di un anno. Durante l'udienza di ieri, il giudice Carlo Ancona ha infatti fissato per la giornata di mercoledì 5 aprile il dibattimento dedicato alla discussione finale con le conclusioni del magistrato titolare dell'inchiesta, il sostituto procuratore Valerio Davico, della parte civile e delle difese dei dieci imputati. Nella prossima udienza, fissata per mercoledì 22 marzo, verranno invece ascoltati i vari periti, da quello della pubblica accusa al consulente della parte civile a quelli delle difese. Se il giudice riterrà sufficiente questo passaggio per avere un quadro preciso della vicenda e quindi ravvisare o meno specifiche responsabilità penali a carico degli imputati, l'udienza definitiva sarà quella di aprile. All'udienza di ieri mattina, nel frattempo, non hanno perso una parola dell'intero dibattimento i due protagonisti più importanti e conosciuti della vicenda, ovvero il vice sindaco arcense Stefano Bresciani e l'imprenditore rivano Roberto Miorelli, seduti uno dietro l'altro. L'udienza, estremamente tecnica, durante la quale sono sfilati otto dei nove test indicati dalla pubblica accusa, la parte civile e le difese.